Nello Savoia, prime considerazioni su questo primo Consiglio Comunale? Sicuramente è stato un Consiglio Comunale dove si è stata presentata la giunta comunale, c'è stato il giornamento del Sindaco, l'elezione del Presidente del Consiglio Comunale. Aspettiamo di vedere all'opera l'amministrazione, sono passati circa nemmeno 30 giorni dal suo insediamento, non sarebbe giusto né criticare né fare altre proposte, aspettiamo soltanto che si mettono al lavoro, da parte della minoranza ci sarà sicuramente un lavoro di squadra per il bene di questa città, faremo delle proposte utili al risolvamento di questa città e speriamo soltanto che l'amministrazione abbia il buon senso di ascoltarci, di poter portare avanti quelle proposte che abbiamo messo all'interno del nostro programma elettorale e che siamo sicuri e siamo certi che possano dare risposte a questa città.